è tipo sgabeo cos'è lo sgabeo? dammi un pezzetto di cornicione ma ti voglio farti una domanda eh! grazie cos'è stato già lo sgabeo? mi dicono che è tipo sgabeo non so cos'è gnocco fritto è buono è buono non è buono è buono da bombella ok mi piace mi fanno aspettare a questa vista non parlate di argomenti ma lo si preco vorrei di distanziarlo la mia carciofina tu e lei e lei no e anche lei due uomini due donne ha fatto la equità ha fatto la equità con un po' ragione è diventata tenerissima va bene no? che bello oggi lo porto a fattore sempre l'insa buona è lo sgabeo? buona sì è pesante è pesante cavolo non ha paio di due ma anche solo due no no io lei e loro due rubina è buona eh carciofina carciofina ma no ma ci mancherebbe adesso arriva si sono belle da vedere margherita con cos'è la tua? particolare Andrea la tua com'è? la mia migliore no ma veramente carciofina quando arriva ma aspetta appoggiamene un pezzettino qua io credo e molte melanzano buona con la tassiccia pure grazie tassiccia e frierelli che sarebbero delle verdure cotte tipo cimetirata carciofina e sattice frierelli carciofina qua chi me lo passa? buona eh due una pitta una pitta una pitta una pitta una pitta e tu metti cos'è? bene è arrivata adesso sei più serena beh si guarda tutti che mangiano hai ragione ma soprattutto quando sei l'ultimo dove sei magari in compagnia quelle esatto le pizzette di classe e sei l'ultimo finirlo chiuso hai perduto con un altro ma devo assaggiarla? però qui